pace e bene a tutti sono fra maurizio guidi cappuccino e in questo incontro vi accompagnerò sul tema come un solo corpo immagini ecclesiali nel nuovo testamento questo mio intervento terrà ovviamente conto del percorso già fatto in specifico delle cose già espresse a riguardo della prima lettera ai cristiani di corinto allo stesso tempo cercherò tuttavia di allargare un po gli orizzonti oltre lo scritto di san paolo divido questa riflessione sostanzialmente in due momenti prima offrendo alcune immagini ecclesiali nel nuovo testamento in specifico quelle offerte dall'evangelista matteo e quelle presenti in paolo poi un secondo momento dove ci soffermeremo sulla metafora corpo membra utilizzata da paolo nella prima lettera ai corinzi iniziamo dunque il nuovo testamento presenta come noto numerosissime immagini metafore o suggestioni di come le comunità proto cristiane hanno compreso e vissuto il loro rapporto vitale con il signore gesù con il padre celeste e di conseguenza le relazioni da una parte con i membri della comunità ecclesiale e dall'altra con il mondo degli uomini di queste immagini o metafore gli studiosi ne hanno contate oltre un centinaio questa oggettiva abbondanza mi pare sia già un primo fondamentale dato con cui confrontarsi la chiesa non può essere compresa e vissuta in un'unica prospettiva magari con il desiderio di appiattirla su un concetto o su quella realtà che noi riteniamo più giusta l'ampio spettro semantico utilizzato per indicare la chiesa nel nuovo testamento dice che certamente vi sono elementi comuni rinunciabili ma anche sfumature talvolta ben demarcate che siamo chiamati ad accogliere senza essere tentati di sopprimerle magari con quel recondito desiderio di unità che in realtà non è altro che il timore della pluriformità con cui dio ha dipinto il creato e dunque la chiesa stessa il vaticano secondo con la sua proposta di modelli differenziati con cui comprendere la comunità cristiana chiesa comunione sacramento corpo di cristo popolo di dio eccetera è fulgido esempio di come custodire questa inallenabile ricchezza di immagini la chiesa appartiene al mistero di dio ma anche alla misteriosa risposta dell'uomo e come tale non può essere definita in modo univoco tra gli evangelisti matteo è l'unico ad utilizzare per ben due volte siamo al capitolo 16 e al capitolo 18 il termine per noi poi divenuto comune di ecclesia chiesa il sostantivo deriva da un verbo kaleo che significa chiamare quando questo verbo accompagnato come nel nostro caso dalla preposizione ecc ecclesia il sostantivo che ne deriva assume il senso di convocazione o assemblea più precisamente la chiesa per come viene suggerita da matteo è la comunità dei chiamati da dio sulla via tracciata dal messia gesù l'appartenenza ad essa dunque non ha come base un atto di volontà del singolo ma la gratuità di dio che chiama l'uomo ad una libera adesione dire chiesa dunque significa innanzitutto affermare la gratuità del padre come pietra imprescindibile di ogni relazione comunitaria sostanzialmente matteo comprende questa realtà in una triplice prospettiva la prima e fondamentale è quella della comunità dei discepoli fratelli come nel vangelo di giovanni l'elemento base che connota la chiesa è per matteo l'essere in cammino di discepolato e vivere al proprio interno relazioni che pongono tutti sul comune piede della fraternità l'aspetto del discepolato è chiaramente messo in rilievo proprio dalla missione che il risorto affida alla comunità a conclusione del suo vangelo matteo siamo al capitolo 28 nei versetti da 19 a 20 in modo solenne colui al quale è stato dato ogni potere ordina agli undici dunque non ad una comunità perfetta ma ad una fraternità ferita storicamente dal rinnegamento ordina fate discepoli tutti i popoli solitamente le traduzioni semplificano qui una terminologia impossibile da rendere in italiano e cioè il verbo matteteuo che letteralmente ha il significato di discepolare tuttavia il senso di questo imperativo del tutto peculiare del vangelo di matteo è ben chiaro con esso si esprime la missione affidata alla comunità con il fine non solo di instradare ma di accompagnare ogni uomo sulla via della sequela che i discepoli storici hanno imparato dal messia in questo contesto forse la traduzione migliore del comando di gesù è allora educate al discepolato la missione della chiesa è quella di coinvolgere l'umanità in un percorso educativo di cui l'evangelista offre qui i due pilastri basilari il primo è l'insegnamento dice il testo insegnando loro tutto ciò che vi ho trasmesso cristo e il suo vangelo sono pertanto la base imprescindibile di ogni cammino il secondo pilastro è invece l'esperienza comunitaria immergendo letteralmente battezzando in una realtà dove nella forza dello spirito si sperimenti la paternità di dio che rende tutti ugualmente figli e dunque fratelli prima di essere un rito il battesimo deve essere una realtà di vita un contesto vivificante di cui il gesto rituale diviene segno e sacramento legata a questa concezione dinamica di comunità di discepoli perennemente in cammino matteo presenta poi la chiesa come famiglia di dio l'evangelista sottolinea questa dimensione soprattutto con il pervasivo linguaggio della figliolanza e della fraternità solo riconoscendo l'unico padre i discepoli possono relazionarsi da fratelli con gli altri uomini la fraternità cristiana ha dunque un fondamento eminentemente teologico tanto che lo stesso Gesù è il primo ad autodefinirsi fratello non solo dei propri discepoli così nel capitolo 12 nel capitolo 28 ma fratello di ogni crocifisso della storia si pensi a questo riguardo al maestoso affresco dipinto da matteo 25 quello che è comunemente detto il giudizio universale qui nel versetto 40 il re messia definisce miei fratelli gli affamati gli assetati gli stranieri i nudi i malati i carcerati sei categorie di uomini per riassumere una umanità su cui grava il peso della storia e che dunque fatica per mille motivi a camminare anche a camminare sulle vie del vangelo crede in un tale dio porta inevitabilmente a instradarsi sulla via della fraternità sacramento di un signore che pur avendo ricevuto ogni potere sceglie di accompagnare gli uomini da fratello infine la terza e ultima immagine della chiesa in matteo è quella della costruzione edificata sul fondamento apostolico e su pietro la ritroviamo al capitolo 16 se nella chiesa l'elemento base della relazione deve essere quello della fraternità tra tutti si ricordi matteo 23 8 uno solo il vostro maestro il cristo e voi siete tutti fratelli ciò non significa che questa fraternità sia un insieme anonimo di soggetti la storia le relazioni personali con il signore i servizi le funzioni i ministeri la rendono sì un edificio dinamico in continua crescita ma con un fondamento storico oggettivo ben chiaro in altri termini avere rispetto di pietro fa parte dell'essere discepoli di cristo anche questo è un necessario vincolo di unità ecclesiale matteo unico evangelista ad utilizzare il termine ecclesia non fa pertanto uso dell'immagine corporea tuttavia diversi degli aspetti che ho appena evidenziato le ritroveremo anche nella proposta paolina della chiesa come corpo di cristo passiamo dunque a paolo il termine ecclesia è diffusamente presente nei suoi scritti compare ben 68 volte ma anche qui troviamo una notevole varietà di immagini e metafore poste sempre al servizio delle situazioni pratiche a cui come nella lettera ai corinti paolo deve rispondere l'apostolo dunque non intende tanto dare a queste immagini un valore assoluto quanto renderle particolarmente significative in alcune situazioni immagini e situazioni storiche delle comunità vanno pertanto sempre tenute insieme forse più che le immagini diviene importante la terminologia con la quale paolo si relaziona i membri delle sue diverse comunità in questo suo linguaggio si trovano infatti i presupposti che poi sosterranno le molte metafore ecclesiali costruite ad hoc ora per evidenziare un aspetto ora un altro dell'unica chiesa di cristo fanno parte di questo linguaggio tipiche espressioni tratte dal contesto familiare è così che in quanto generati e fedelmente accompagnati nella crescita sia i corinti che i tessalonicesi sono detti figli paolo si considera loro padre nella fede e tuttavia non cessa né di comportarsi da fratello né di avere atteggiamenti materni in galati 4 19 afferma di aver sofferto per i suoi figli i dolori del parto e poi rilevante fa notare romano penna che nei suoi sette scritti autentici paolo non chiami mai fedeli discepoli o cristiani ma unicamente fratelli ben 112 volte oppure santi una porzione minore 25 attestazioni la categoria della fraternità è quella di riferimento per parlare delle relazioni interne alla comunità mentre quella di santità è impiegata solo per distinguere la chiesa di dio dal mondo di coloro che camminano su altra strada e non fondano l'esistenza sull'amore di cristo può dunque sembrarci strano ma in paolo la categoria della senta della santità non è criterio di distinzione tra i fedeli i quali tra loro sono tutti ugualmente fratelli la cosa è ancor più sorprendente se consideriamo che paolo chiami santi coloro che per i nostri canoni non lo sarebbero affatto anzi la lettera ai corinzi più di altre rende palese questo sorprendente uso del termine santità fin dall'inizio della lettera quei fratelli che poi saranno a più riprese fortemente biasimati per divisioni prostituzione irregolarità matrimoniali discriminazioni interne ingiustizie litigi competizioni sui carismi sono senza alcuna remora chiamati santi il motivo è molto semplice per paolo i battezzati non si danno da soli la santità costruendola con i propri sforzi morali ma sono letteralmente dei santificati per dono di dio per la sua fedeltà e il dono non dipende da condizionamenti morali ma semplicemente dall'accoglienza di fede è questa la base che unisce in modo imprescindibile tutte le membra della chiesa chiariamoci con ciò paolo non sta dicendo che l'etica non conta ne sono testimonianza le abbondanti esortazioni morali presenti in tutte le sue lettere eppure queste esortazioni non sono mai richiami a farsi santi ma per dirla con il linguaggio giovanneo incoraggiamenti affinché i fratelli rimangano come tralci nell'unica vite nell'amore che li ha già generati in altri termini siamo figli non se ci comportiamo in un certo modo ma perché già generati nell'amore del padre e questo niente nessuno potrà mai togliercelo su questo fondamento linguistico e teologico paolo costruisce poi le sue immagini di chiesa che non a caso sono numerose e dunque tutte incomplete e bisognose di essere relazionate le une alle altre solo nel terzo capitolo della prima lettera ai corinti in appena 13 versetti sono i versetti che vanno da 5 al 17 ne vengono esplicitate ben 4 si usa l'immagine vegetale dell'albero che qualcuno ha piantato altri hanno irrigato ma uno solo dio fa crescere la chiesa è poi paragonata al campo di dio nel quale lavorano molti operai da riconoscere e accogliere la chiesa poi viene detta edificio il fondamento è l'insegnamento apostolico e in questo si veda appunto il comune legame con matteo infine la chiesa è definita come tempio santo di dio a queste quattro immagini se ne potrebbe aggiungere una quinta l'immagine dell'olivo proposta a conclusione del capitolo 11 della lettera ai romani la chiesa dei gentili cioè tutti noi non di origine ebraica è detta olivo selvatico innestato sull'olivo coltivato da dio stesso israele la cui radice è santa tutte queste immagini hanno la caratteristica di essere dinamiche con lo scopo di impedire il rinchiudersi in concetti sterili che possono far comprendere la chiesa di dio come immune dalla storia degli uomini e dalle loro libere scelte oppure svincolata dallo stesso percorso storico della salvezza che ha in israele la sua radice santa e ineliminabile la chiesa non è mai compresa da paolo a livello sociale ma sempre come realtà appartenente ad altro da sé essa è detta di dio di cristo o in cristo come bene emerge anche nell'esordio della prima lettera ai corinzi alla chiesa di dio che è in corinto a coloro che sono già stati santificati in cristo gesù chiamati ad essere santi a permanere dunque nell'amore ricevuto la chiesa alla quale siamo stati chiamati appartiene solo a colui che l'ha fatta esistere dio padre e a colui che storicamente l'ha generata mediante la sua croce cristo gesù fuori dal signore e dal suo amore non c'è dunque chiesa veniamo dunque alla seconda parte del nostro incontro chiesa corpo di cristo l'espressione riferita alla comunità dei credenti è creazione paolina e compare per la prima volta in uno corinzi 12 27 voi siete il corpo di cristo si conclude qui una fase argomentativa e l'affermazione di paolo assume un deciso tono di comando per un momento l'apostolo si tira fuori dal gruppo comunitario e con tono deciso afferma voi siete corpo di cristo l'effetto pragmatico è evidente se voi siete corpo di cristo dunque comportatevi di conseguenza l'immagine del corpo è comunemente impiegata nel mondo greco romano dove si pensa alla polis come corpo formato dalle membra interdipendenti dei suoi cittadini non di meno paolo la applica alla comunità in modo del tutto particolare l'immagine presenta il capitolo 12 non appare però all'improvviso all'interno della lettera ai corinti ma viene sapientemente preparata fin dal suo inizio così dopo aver esordito ricordando la comune base di santità al capitolo 6 paolo ricorda i fratelli di essere membra di cristo e non membra di meretrice la metafora rivolta ad una comunità divisa in fazioni ha qui un senso piuttosto ovvio l'apostolo sta dicendo ricordatevi a chi appartenete e da quale amore siete stati generati non da affetto di prostituzione ma dall'amore di chi ha donato la vita per voi proseguendo al capitolo 10 coloro che si ritengono i forti nella fede nella conoscenza di cristo sono ammoniti dal non disprezzare i fragili che ancora zoppicano perché tutti ugualmente si nutrono dell'unico corpo di cristo così nei versetti 16 17 corpo di cristo che non è dice papa francesco premio per i perfetti ma alimento per i deboli così nella evangelii gaudium al numero 47 poco oltre trattando le ingiustizie compiute proprio nel contesto della frazione del pane che nella chiesa primitiva coincide anche con l'atto caritativo di condivisione con i più poveri paolo ricorre ancora all'immagine del corpo esplicitando il legame tra cristo signore il suo corpo eucaristico e la comunità ecclesiale anch'essa definita corpo ne consegue la perentoria espressione di 11 29 chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del signore cioè il corpo ecclesiale di cui fan parte i poveri e i fragili appena disprezzati costui mangia e beve la propria condanna da qui in poi l'espressione corpo di cristo o corpo del signore è sempre riferita alla comunità dei fedeli si arriva così al capitolo 12 dove il paragone tra la comunità e le membra di un corpo viene esplicitato così paolo afferma al versetto 12 come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra e tutte le membra del corpo pur essendo molte sono un corpo solo così anche il cristo proviamo a pensarci visto che si sta parlando della comunità ci si aspetterebbe che il paragone corpo membra si concludesse con così dunque anche la chiesa invece paolo dice così anche cristo poco oltre al versetto 27 questo legame cristo chiesa viene esplicitato senza ombra di dubbio voi siete corpo di cristo essere di cristo e ancor più l'espressione essere in cristo non esprime dunque un semplice senso di appartenenza corporativa ad un club o alla polis per quanto riguarda i corinti ma anche un legame sacramentale la chiesa unione storica di fratelli manifesta cristo e lo rende presente soffermiamoci dunque su questo ricco capitolo 12 in cui alla stregua dei veggenti dell'oracolo di delfi ricordiamoci che siamo in grecia il santuario di delfi e la sua pizia sono estremamente famosi per i corinti e non solo dunque alla stregua di questo oracolo alcuni cristiani cercano di ergersi sugli altri innescando una catena di emulazioni di pretese gerarchie di vanti e di conseguenti frustrazioni e lacerazioni fraterne la situazione storica viene esplicitamente descritta dallo stesso paolo ma solo più tardi nella lettera alla fine di tutta questa sezione cioè al capitolo 14 nel versetto 26 paolo ridicolizza i battibecchi comunitari che fare dunque fratelli quando vi radunate uno a un salmo un altro a un insegnamento uno a una rivelazione uno a il dono delle lingue un altro a quello dell'interpretazione tutto avvenga per l'edificazione i corinti sono consapevoli di possedere ciascuno qualcosa e cercano di esibirlo proprio nelle assemblee innescando una sorta di competizione io ho un salmo dice uno io ho un insegnamento da comunicarvi subentra un altro io invece posseggo la capacità di interpretare aggiunge un altro ancora ma viene sovrastato dalla voce di un quarto fratello che dice e io allora so parlare le lingue in questo contesto il ragionamento di Paolo è piuttosto lineare ma parte, si noti bene da una situazione di oggettiva ricchezza di doni di Dio Paolo non mette in dubbio l'autenticità di questi doni ma dimostra ai fratelli la loro immaturità nell'accoglierli e nel gestirli Dio dona in abbondanza ma i doni si possono anche calpestare per far comprendere come trattare le cose spirituali Paolo allora ricorre ad una metafora naturale immediatamente comprensibile per tutti quella del corpo umano come il corpo è unico ma necessariamente composto da molte membra diverse tra loro così anche lo spirito esso è unico ma i suoi doni devono essere diversi l'argomentazione che da qui segue è avvincente non avendo tempo di affrontarla per intero offro semplicemente la chiave di lettura la troviamo al versetto 7 la dove si dice a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per l'utilità in questa frase si evidenziano due cose la prima la natura dei carismi e la seconda il loro scopo anzitutto la natura i fatti spirituali di cui si parla sono espressioni pubbliche non private o interiori che portano poi in concreto a varie azioni all'interno della comunità chi guarisce chi profetizza chi insegna eccetera se dunque la fede è stata ugualmente riversata in tutti i credenti dono interiore rendendoli figli e donando loro l'amore di Dio le manifestazioni esterne dello spirito vengono invece date in modo differenziato a uno in un modo che è diverso da quello dato ad un altro in seconda battuta poi Paolo dice anche lo scopo di questi doni essi sono manifestazioni permettetemi di citare il greco prostosum feron per l'utilità il testo si ferma qui è tronco tanto che le varie traduzioni sono poi costrette a completarlo con frasi come per il bene comune o per l'utilità di tutti certamente nel contesto è questo il senso dunque non lo stiamo negando tuttavia è interessante che Paolo qui non lo dica e lasci la frase aperta occorre pertanto chiedersi il perché di questa strategia retorica in realtà che l'utilità possa essere non per tutti ma per alcuni o solo per se stessi è evidente anche altre volte nel nuovo testamento in Matteo 5 29 30 ad esempio la stessa espressione sun ferei utilità è completata con utilità per te anche qui si usa la metafora del corpo stavolta ad esprimere l'agire umano se la tua mano destra ti è motivo di scandalo tagliala e gettala via da te è utile per te sun fere i soi perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il corpo vada a finire nella genna non è ovvio pertanto che utilità in 1 Corinzi 12 7 si riferisca immediatamente al bene comune la cosa del resto è comprensibile anche esaminando i carismi elencati da Paolo è vero che la maggior parte di questi hanno una utilità comune le guarigioni sono per gli altri i miracoli avvengono per fede così il linguaggio di sapienza e di conoscenza è per la crescita della comunità tuttavia anche questi doni possono essere utilizzati per portare profitto personale gloria fama riconoscenza a conclusione del discorso della montagna Gesù esprime la stessa cosa in modo molto duro siamo al capitolo 7 del Vangelo di Matteo nei versetti 22 e 23 in quel giorno molti mi diranno signore signore non abbiamo forse profetato nel tuo nome e nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni e nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti miracoli ma allora io dichiarerò loro non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità Matteo cita qui tre doni profezie esorcismi miracoli si tratta anche qui di carismi si possono dunque fare grandi cose per gli altri ma rimanere in una situazione personale pessima senza aver instaurato con Cristo alcuna relazione profonda tanto da sentirsi dire quella terribile frase non ti conosco torniamo a noi se Paolo lascia la frase aperta senza completarla a ciascuno è data una manifestazione per l'utilità è perché desidera fortemente che siano i fratelli stessi e chiunque stia ascoltando questo testo a trovare la risposta Paolo suscita solo la domanda invitando a scoprire personalmente la giusta prospettiva evangelica con cui vivere i carismi i doni di Dio Paolo di Tarzo è un fine educatore e sa benissimo che il Vangelo per essere accolto va scoperto da ciascuno con la gioia di chi trova un tesoro nel campo la fatica del cammino da una parte e la gioia della scoperta dall'altra sono presupposti essenziali affinché si possa accogliere la vita nuova di Cristo forse lo dimentichiamo troppo spesso nei nostri approcci pastorali non di rado inclini a trasmettere contenuti e concetti ma poco attenti a suscitare cammini personali e comunitari che possono avere un seguito di fatto il lettore paolino capirà la questione dell'utilità solo arrivando al capitolo 13 e confrontandosi con il maestoso elogio che Paolo intesse alla gape alla carità all'amore di Dio che mediante il Signore Gesù è stato riversato nei cuori di tutti i credenti e qui di fronte a questo immenso dono ogni carisma viene relativizzato e con esso ogni pretesa di attenzione personale si scioglie dunque il dilemma relativo all'utilità l'amore di Cristo è la condizione affinché i carismi siano utili tanto agli altri come a se stessi i doni di Dio non sono strumenti per ricercare prestigio o per salire di grado in una comunità ma preziose occasioni di vita per rendere concreto storicamente l'amore che abbiamo già ricevuto seguendo con pazienza il ragionamento e gli esempi di Paolo i Corinzi che tanto aspirano ad avere superpoteri come la Pizia di Delfi appunto e ad occupare i primi posti in seno alla comunità scoprono da soli che tutto questo o giova realmente ai fratelli oppure non giova neanche a se stessi il concetto ultimo per comprendere tanto i carismi come l'immagine del corpo è dunque l'edificazione stesso concetto seppur con sfumatura diversa che avevamo trovato nel Vangelo di Matteo tutto avvenga per l'edificazione conclude Paolo in 1426 se ciò che avete dice Paolo non è per l'edificazione della casa comune se ciò che fate non è coordinato insieme affinché la pianta di Dio cresca se non agite secondo colui che si è messo da parte per donare vita agli altri allora distruggete il tempio di Dio che siete voi lacerate l'unico corpo in tessuto con il sangue del Signore nostro Gesù Cristo concludo allora questo intervento ritornando al capitolo 12 in specifico ai versetti 17 e 18 se tutto il corpo fosse occhio cioè visione profezia dove sarebbe l'udito l'ascolto se tutto fosse udito dove sarebbe l'odorato il profumo ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto come Egli ha voluto commentava questi versetti l'allora professore e poi cardinale Albert Vanois un'assemblea di veggenti non sarebbe una chiesa perché è essenziale alla chiesa ascoltare la parola di Dio d'altra parte il solo ascolto nemmeno basta ci vuole anche il profumo dell'operare evangelico perché Dio diffonda la fragranza della sua parola nel mondo noi siamo il profumo di Cristo aggiunge poi Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 2 la diversità così nei doni carismatici come nelle membra proviene da Dio stesso affinché il corpo possa avere vita è questo il motivo che rende ciascun fratello e ciascuna comunità seppur costantemente bisognosi di conversione preziosi così come sono bene ringraziandovi per la vostra abbondante pazienza vi lascio come richiesto alcuni spunti di riflessione vi ho consegnato una scheda affinché possiate seguirli più facilmente scegliete poi voi su cosa soffermarvi la prima suggestione alla luce dei dati che abbiamo sintetizzato appare chiaro che parlando di comunità ecclesiale il nuovo testamento si esprime con una notevole pluralità di immagini indicando dunque nella chiesa di Dio una unità che è possibile solo se ne viene contemporaneamente apprezzata la pluriformità un unico corpo ma molte membra diverse tra loro ciò significa che la realtà ecclesiale in cui vivo una parrocchia una comunità religiosa come nel mio caso oppure un movimento seppur autentica non è l'unica espressione di chiesa domanda come viviamo questa ricchezza con la paura e il timore di chi si sente minacciato e dunque tende a difendere e ad affermare la propria realtà di appartenenza o con quella meraviglia evangelica capace di valorizzare ogni singola espressione ecclesiale secondo spunto come a corinto anche nelle nostre comunità e sarebbe sbagliato negarlo amiamo tanto i titoli e i ruoli assumendoci alcuni compiti di solito partiamo con il pieno giusto ci diciamo affinché ciò che faccio sia utile a tutti ma spesso il ruolo e il titolo divengono pian piano strumento per una utilità personale prestigio ammirazione autostima o talvolta occasione per esercitare piccoli poteri proviamo a fare l'esercizio che Paolo stesso ha suggerito ai corinti ognuno completi questa frase io faccio questo e aggiungiamo servizio compito quello che facciamo per l'utilità per un po' lasciamo in sospeso questa frase pensiamoci bene a chi è utile sicuri che lo facciamo per gli altri ultima suggestione le immagini comunitarie presenti negli scritti Paolini sono basate su un linguaggio quotidiano che ha formato la mente e il cuore dell'apostolo nel pensare la chiesa è così dunque che Paolo si autocomprende padre madre ma soprattutto fratello nei confronti delle sue comunità usare alcuni termini e non altri per relazionarsi ai membri della comunità non è affatto indifferente ai fini della costruzione o della frammentazione dell'unico corpo di Cristo domanda è così difficile ripartire dalla categoria evangelica di fraternità ovviamente direbbe Matteo 28 il discepolato come la fraternità non si improvvisano ad essi occorre essere costantemente educati pace e bene a tutti buona condivisione e grazie ancora della vostra pazienza grazie a tutti